Le nuove puntate della SOP turca Endless Love si preparano a deliziare il pubblico italiano. Da domenica 22 settembre a sabato 28 settembre 2024, le attese vicende dei protagonisti si ricerchiranno di colpi di scena e emozioni forti. Le anticipazioni svelano situazioni intriganti che faranno crescere la tensione e l'interesse in ogni episodio. Anticipazioni Endless Love puntata domenica 22 settembre. Il matrimonio tra Kemal e Asu è in fase di preparazione, ma il clima è teso. Feime svela a Asu un segreto scioccante. La piccola Denise è in realtà la figlia di Kemal. Questa rivelazione porterà Asu a cercare conforto da Emir, che si trova a casa con la madre in coma. La situazione si complica ulteriormente quando il malvagio imprenditore affronta il padre Galip per le gravi notizie ricevute. Inoltre, Ayan vince una scommessa contro Leila, portando a una serata in casa di Nyan con Denise e un incontro con Kemal. Qui, Nyan rivela le registrazioni incriminate della conversazione tra Emir e Akan, lasciando entrambi decisi a scoprire la verità. La puntata termina con Asu in lacrime, dopo aver appreso di essere stata abbandonata da Kemal prima delle nozze. Anticipazioni Endless Love puntata lunedì 23 settembre. Emir rivela il suo piano al padre per affrontare Kemal, mentre Asu scopre le motivazioni dietro l'abbandono dell'amato. Nyan confida a Leila un episodio intimo. Kemal l'ha baciata. Le tensioni tra i personaggi aumentano mentre i piani e le emozioni si intrecciano in modi inaspettati. Anticipazioni Endless Love puntata martedì 24 settembre. Kemal avvia un'indagine sul commissario Akan, scoprendo legami sorprendenti con Emir. La connessione tra il nuovo autista di Nyan e il fratello di Akan potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le vere alleanze in gioco. Anticipazioni Endless Love puntata mercoledì 25 settembre. Una telefonata intercettata da Banu scatena una lite con Zeynep, mentre Ayan progetta il rapimento di Reshat con l'aiuto di Kemal. Questa strategia innesca un clima di tensione crescente, costringendo Emir a reagire rapidamente per proteggere i suoi interessi. Anticipazioni Endless Love puntata giovedì 26 settembre. Emir decide di fare la sua mossa per aiutare Asu, ma le conseguenze delle sue azioni potrebbero risultare devastanti. La confusione regna sovrana mentre i segreti e le menzogne si accumulano, portando a conflitti e incomprensioni tra i membri della famiglia. Anticipazioni Endless Love puntata venerdì 27 settembre. Zeynep cerca di proteggere il suo segreto, mentre Galip si trova di fronte a nuove rivelazioni da parte dell'agenzia di ispezione di Kemal. Le dinamiche familiari si fanno sempre più intricate, con ognuno che gioca le proprie carte per ottenere vantaggi. Anticipazioni Endless Love puntata venerdì 27 settembre in prima serata. Emir si prepara a allontanare Reshat, ma non sa che Nian sta osservando tutto, trovandosi in una situazione disperata. Kemal e Zeynep devono affrontare le conseguenze delle rivelazioni fatte. Poco dopo, Asu tenta l'estremo gesto, ma viene salvata da Nian. Kemal, nel frattempo, avrà una sincera conversazione con Nian riguardo ai suoi sentimenti. Anticipazioni Endless Love puntata sabato 28 settembre. La pressione sale quando Kemal minaccia Akan, e le rivelazioni sulla paternità di Denissri emergono. Asu è in fase di recupero mentre le insinuazioni su un possibile legame tra Zeynep e Emir continuano a circolare. Infine, Kemal si avvicina a Asu, aprendo a nuove possibilità romantiche.